Ausilio fa il punto sul mercato dell'Inter, non le ho ancora lette nemmeno io queste parole, sono arrivate che eravamo già in diretta, le andiamo a vedere assieme con l'aiuto della grafica, allora vediamo il punto del mercato del DS Nerazzurro. Allora, si parte dall'infortunio di Buchanan che di fatto costringe l'Inter a tornare sul mercato. Dice Ausilio, ci siamo già confrontati con il mister, i nomi li conosciamo noi, sarà un giocatore che occuperà il centro-sinistra in difesa perché Carlos Augusto può essere utilizzato da quinto, quindi già ci dà una notizia, non sarà un esterno, sarà un difensore che può giocare nei tre dietro sulla zona sinistra. Come dice Beccalossi, il braccetto. Il braccetto, il braccetto. No, Becca non dice, non usa questi termini. Sai che ti preferivo quando facevi il pisolino, perché sei entrato. Andiamo avanti. Tu mi hai dato tante indicazioni. Ci stiamo orientando su un mancino, vedremo le opportunità del mercato, ma siamo molto calmi. Abbiamo due mesi per trovare la soluzione. E poi l'altro tema, l'offerta della squadra di Pioli. Spete che Pioli è andato in Arabia a guadagnare uno sproposito e Pioli vuole De Vrij. Lui dice Ausilio, sono notizie che a volte hanno un fondamento, ma in questo caso al momento no. È un giocatore importante, se vuole prendere in considerazione proposte noi ascoltiamo, ma oggi è un giocatore della Rosa e pensiamo a una stagione con lui. E poi Gudmundson, abbiamo due giocatori per ruolo e siamo a posto così. Quindi adesso, onestamente, Becca, io cerco di leggere tra le righe. Quando lui dice al momento non è arrivato niente, non sta dicendo non arriverà mai. Sta dicendo che ad oggi la telefonata degli arabi non c'è. Però se arriva, insomma, De Vrij ha 32 anni. Si sono mossi prima e poi cammini facendo. Se capitano delle situazioni, si muovono. Perché anche, insomma, arrivano anche qualche richiesta. Tutti ci provano, perché insomma ci sono dei giocatori importanti. Però secondo me sono nella miglior condizione per valutare tutto. Decidere chi tenere. Se arriva un carico da 11 sono attenti. Però per quel poco che so io, se è fatto male il giocatore, loro intervengono. Sennò la Rosa era già... Praticamente al completo. Perdere De Vrij sarebbe un problema, Jack? Ma secondo me sì, anche perché lo sto seguendo anche a questi europei. Sta facendo veramente un campionato molto, molto, molto importante. Sta giocando molto bene. E secondo me perdere De Vrij è una perdita importante. e l'Inter, che sa perfettamente, dovrà intervenire per forza in quella zona di campo. Perché comunque lui è un destro. Il resto sono quasi tutti mancini. Se non sbaglio, lì che puoi adattare è solo Darmian. Ma Darmian, secondo me, per Inzaghi è più un esterno. Non è un terzino sinistro. Se ciò ho detto questo... Non è un terzino sinistro, ma questa è una battuta. Non l'abbiamo fatto giocare nazionale. L'Italia, dici, sì. No, vabbè, ma lui ha giocato anche parecchie volte tipo con Ventura, in Serie A, sinistra. Però il suo ruolo è a destra. Ma ha detto questo, secondo me, se perde De Vrij, perde un pezzo da 90. Perché non lo perderanno. De Vrij è rischio. E da quello che si evince in quella dichiarazione, loro sono fortemente su Gumbusson. Perché in stile Moji cercano di depistare. Quando dicono no, siamo a posto di usilio. Perché è una roba che nel panorama calcistico attuale, quelli che hanno preso le veci di Moji sono Marotta e Ausilio. Sono furbi come una volpe e poi se vogliono prendere un giocatore non lo sbandierano. Per cui io sono tranquillo che se andrà via De Vrij, loro hanno già a disposizione un giocatore da prendere. Ma poi loro, scusa beccati velocemente, loro hanno fatto anche, parlo dell'Inter, hanno fatto un intervento, come ha detto Gigi, stile Moji, ai tempi della Juventus, dove, l'ha detto lui stesso qua, nei punti cruciali loro già a febbraio avevano individuato il problema. Perciò con Zelischi e Taremi, l'attaccante e il centrocampista importante, l'avevano già fatto a febbraio. Adesso è capitato il problema di un infortunio, perciò c'è De Vrij che verrà richiesto, però i due punti fondamentali li ha già fatti a febbraio. Però il giocatore che si è fatto male è un elemento di secondo piano, inutile negarlo, dai. Perché ne hanno per quel ruolo lì, perché Carlos Augusto può fare la doppia funzione o giocare lì o qui. Però la memoria è corta, De Vrij lo si stava perdendo parametro zero. È vero, l'anno scorso. Lo stava perdendo, poi qualcuno gli ha detto, scusa, questo è forte, è un grande professionista, perché gioca, non gioca, ma hai rotto le scatole anche un po' particolare, perché è talmente bravo. E quindi sono contento che poi si è ripreso, è il difensore forte, disponibile, e poi ha lo spirito del gruppo, non del singolo, che pensa a se stesso. Quindi è una fortuna avere il giocatore di questo tipo. Poi adesso con l'Olanda sta facendo il campionato, dove a me è impressionato. Cioè sta giocando più costantemente adesso con la sua nazionale. Esce dall'area di rigore, imposta, si fa vedere in mezzo al campo, diventa un centrocampista aggiunto. Però è sempre stato un buon giocatore, dai. Sì. Ma lui ha avuto un periodo di calo, come ha detto... No, no, ma è stato delicato, perché poi qualcuno ha già detto, ma se diamo via lui che è nostro, rinnoviamo il contratto a lui senza vendere lui e spendere delle cifre... E si, conveniva tenerselo e ce l'avevi già in casa. Anche perché è una certezza, cioè a livello di prestazioni. A Cerbi l'anno prossimo 37 anni, per carità, viene da due anni ottimi a Cerbi, però magari l'anno prossimo avrà un calo. E' uno che non molla a Cerbi. E poi loro hanno avuto la bravura e la fortuna di trovare un giocatore come Pavard. E' un giocatore che può insegnare a chiunque. Io quando l'hanno preso, ci sono stati dei miei amici interissimi, ho detto, ma chi è questo? Questo è un grandissimo giocatore, non grande. No, è vero. Abbiamo visto la formazione in grafica, in difesa, qualora dovesse partire De Vrij, si fanno due nomi al momento. Uno, quello di Ermoso, è un parametro zero. Ero Ermoso dell'Atletico Madrid, però è andato in scadenza, non ha rinnovato. Tra l'altro l'Atletico l'ha già sostituito con le Normande. Qui pare però che ci sia Oktri un po' di mezzo, nel senso che Marotta, Usilio Inzaghi, sono d'accordo su Ermoso. Oktri, che ragiona da fondo, non vorrebbe prendere un giocatore di 29 anni, fa di un ingaggio importante. Ma io credo che Oktri, se ha valutato bene Marotta, si fiderà di Marotta. Fa fare a lui. Ma se gli ha fatto fare il Presidente, secondo te non ha fiducia in questo? Questo ha dimostrato negli ultimi tempi di essere avanti dieci anni, come l'aveva dimostrato Moggi in quei tempi. Adesso non è voler fare della piageria nei confronti di Mosi. Amministratore e Presidente. Doppia carica. Sì, sì, tu dici più di così è difficile, cioè non posso valorizzare nessuno più che fargli fare il Presidente e l'amministratore delegato. Anche perché ultimamente, come stava dicendo Gigi, negli ultimi anni a parametro zero ha preso dei giocatori, a parametro zero ha venduto Nanna a 50 milioni, ha preso Turam a parametro zero, se vuole lo vende a 70-80, ha preso Pavala, ha preso parametro zero, non mi ricordo. No, l'ha pagato. Però ha preso Zelischi, ha preso Taremi. Federico, io ho saputo che i loro tempi addietro sono andati a scuola da Luciano, per apprendere determinate cose, perché il calcio ha attaccato Luciano come attacca tutti quelli che hanno qualcosa in più. Però i bravi sono quelli che vanno a mutuare da quelli che sono più avanti. Io credo che Marotta, che è una persona non intelligente di più, abbia guardato a Luciano come un punto di riferimento. L'altro nome è quello di Kevin Danso, del Lanz, che l'anno scorso fu accostato al Napoli, poi non se ne fece nulla. Anche questo è un giocatore che piace molto, però qui i costi sono un po' più alti. Massimo, parlavamo di De Vrij, no? Qualora dovesse arrivare un'offerta, l'Inter potrebbe perderlo, a quel punto dovrebbe riaprire il suo mercato, che ha già dovuto riaprire perché si è fatto male Buchanan. Cosa pensi, insomma? In questo momento l'Inter ha davvero chiuso, oppure è qualcosa che bolle sempre in pentola? Ma secondo me è qualcosa che bolle sempre in pentola, nel senso che poi il mercato ti dà delle opportunità che credo che l'Inter negli ultimi anni abbia dimostrato di saperle sfruttare. Vedi non ultimo anche lo stesso Cialanoglu, che non si stava accordando col Milan e l'Inter è intervenuta in modo molto astuto e svelto. E quindi io credo che l'Inter parte già con un'intellaiatura importante, con un motore già ben rodato. E' logico che poi questi ultimi due innesti già fatti, diciamo così, ancora prima che iniziasse il mercato, sono fatti proprio, diciamo così, per andare a puntellare quelle che secondo la gestione tecnica erano delle piccole lacune. però io credo che parta... Diciamo che c'è una prima fila dove vedo solo una squadra che è l'Inter in prima fila. Le altre poi, non so, distribuite voi, la seconda, la terza, la quarta, ma solitamente poi Formula 1, la prima fila, ci sono due macchine, ma qua mi sembra che ce n'è una sola. Siete d'accordo con Massimo? L'Inter è un passo avanti su tutto e se tiene alta la motivazione solo quello può... L'Inter ha due squadre che se partecipano tutte e due arrivano prima e seconda. Ma oltretutto il vantaggio, mister, di avere un sistema collaudato, un'autostima elevata, uno staff dirigenziale che nessun altro ha in tutta la Serie A. Un allenatore che oggi conosce la squadra e dà in fiducia della squadra col tecnico, l'Inter può perderlo solo lei, lo Scudetto. Deve capitare qualcosa di particolare, un calo motivazionale. È l'unica cosa che vedo che possa incidere sull'epilogo del campionato. Anche se il mercato è per iniziato. Possiamo aspettare. Aspettiamo di vedere cosa fanno gli altri. Allora, se parliamo adesso... Siamo al 5 luglio, attendiamo appena iniziarsi. Però, sai... Giacomo, ma anche il fatto che l'Inter ha chiuso... Poi volevo dire, scusa un attimo, ma noi dimentichiamo nell'Inter... Ma c'è ancora quel centrale... Sì, il ragazzo giovane, quello di colore? Quello è bravo. Chi dite? Quello che ha fatto il gol a Bologna anche. 78 partite... Ah, Bissek. Bissek. Ragazzi, mi ha dimenticato di Bissek. Ma Bissek è forte. No, ma l'Inter, allora, sulla carta non ci sono problemi. E hanno problemi per sostituire... No, ce l'hanno. Ce l'hanno. Però io ti dico, io aspetterei a fine del mercato. Anche se non sappiamo cosa fare... Certamente sì, però io credo che per superare l'Inter, con l'esperienza che ha adesso, con i giocatori che ha adesso, con la società che ha adesso, sia non difficile, ma difficilissimo. Voglio dire una cosa, Giacomo, tu dici, aspettiamo la chiusura del mercato. Vero, le altre si possono rinforzare, ma l'Inter ha già praticamente chiuso il mercato. È un passo avanti, è un segnale di forza. Ma l'ho detto prima, l'Inter l'ha chiuso sempre. È un segnale di forza. Il mercato. Sai che Michele, no, è scatenato. È pronto. No, mi ha mandato effettivamente una cosa interessante, cioè le quote in questo momento dei bookmaker sulla vincente del campionato, ora senza dire i nomi, le aziende. Però l'Inter per i bookmaker non è favorita di più, ma proprio di più. Ma non solo per i bookmaker, per tutti. L'Inter si gioca a 1,70 e la seconda, che è la Juve, si gioca a 5,50, per dire la differenza. Quindi poi è vero che il mercato ancora è lungo ed è vero anche che i bookmaker sbagliano. Non è che dico sempre la verità. Allora, Fede, se noi dobbiamo discutere sulla carta in questo momento, non c'è paragone. Non c'è paragone. Però siamo all'inizio, come hai detto Gigi. Però io ti dico, non è che le altre squadre possono fare due squadre come ha detto Gigi prima, perché secondo me l'Inter è costruita non bene di più. E ripeto, l'Inter ha puntellato già a febbraio dove aveva bisogno realmente. Poi ha cercato di valutare in determinate situazioni, in determinati punti del campo. Però io credo che comunque le altre squadre, anche lo stesso Napoli, comunque sta facendo un'ottima squadra. È vero. Napoli arriva da una situazione non bella. È arrivato Antonio Conte che ti dà delle certezze. Sta facendo dei buoni acquisti dal mio punto di vista. Poi il Napoli, guarda che ha giocatori che due anni fa hanno vinto il campionato. Sì, sì, sì. Non è che… Però Gigi tu insegni che sulla carta ti giri indietro in panchina tra Napoli e Inter. Sicuramente, però a Napoli sei un personaggio che ha una validità, una voglia impressionante che Antonio muore. È una marcia in più. E quello, come dissi all'inizio della puntata, secondo me la persona centrale è sempre comunque l'allenatore. L'allenatore. Becca? Faccio un intervento dagli europei. Perché facevi così? Perché chiedevo la parola. Prego, prego. È ufficiale. Era dal 72 che non vedevo uno che batteva in velocità Cristiano Ronaldo. C'è una roba… Ma dove? Adesso, adesso. Adesso, adesso. Agli europei sto vedendo anche un po' la partita. Gli ha recuperato dieci metri in tre. Hai visto? Chi è stato? C'è una roba… C'è una roba… Il terzino destro del tristino sinistro… Forse è la Ternandez. Ok. Ma guarda che si arrabbiano Gigi e Giacomo. Perché poi loro pensano che noi non seguiamo i loro commenti. Gigi, noi abbiamo parlato con Fede, con Massimo, dell'Inter, del calcio mercato. E loro due guardano la partita. Siccome io ho tanti amici che sono amici del Beckham, ha detto, mi raccomando, cerca di essere tranquillo con il Beckham, perché in un periodo… No, il periodo no. Il periodo, sai, di involuzione. No, ci sono i bastomani, il 72… Non eri preparato a questa cosa. Lui è dato a vedere la corsa di Cristiano Ronaldo. Una considerazione giusta è stata clamorosa. Ancora Inter e Milan. Vai, vai Gigi. Parlavamo prima di Ronaldo, ma si è visto anche un 15 minuti prima ha sbagliato un gol che mai avrebbe… Davanti alla porta. Un cross sul suo destro, tranquillo, l'ha buttato fuori. Però noi stavamo parlando dell'Inter e noi parliamo della corsa di Cristiano Ronaldo. Però lo voleva dire, io lo vedevo, era un po' che era così. Torniamo tra due minuti, vi daremo anche il finale di Portogallo-Francio. Ben ritrovati, si parlava ancora di Inter. Attenzione intanto perché abbiamo detto che Pioli vuole De Vrij alla Litiad, però… Se Borrelli vorrebbe intervenire. Borrelli? Se vuole può farlo, schiaccia l'interfono ed interviene, no? Però, attenzione perché Pioli alla Litiad non è ufficiale, pare che ci siano delle divergenze interne nella Litiad. Quindi Pioli in stand-by, qualcuno lo vuole, c'è qualcuno che evidentemente ha dei dubbi. Non è ancora un fire, no. Non ha mai l'unanimità, Pioli. Non ha l'unanimità, bravissimo. Anche Teate, che era andato, sembrava ufficiale, quasi fatta alla Litiad, anche lui è ancora fermo. Il nostro titolo va su Carboni perché l'eventuale cessione di Carboni, che in questo momento piace molto al Marsiglia di De Zerbi, potrebbe poi portare i soldi per andare su Gudmundson, no? Lo vogliono in prestito. Lo vogliono in prestito, senza esporsi troppo. L'altro giorno Ausilio, parlando di attacco, aveva detto noi siamo a posto così perché c'è anche Arnautovic. Ora, i tifosi sono insorti, no? Nessuno vuole Arnautovic in rosa anche l'anno prossimo. Però ve lo faccio ascoltare questo passaggio di Ausilio. Sono solo 30 secondi. Sentite la convinzione con cui dice queste parole. Poi ovviamente voi che siete dei volponi di questo mondo, mi direte se ci credete oppure no. Ausilio su Arnautovic. La nostra posizione è molto semplice ed è uguale a quella di Arnautovic. Noi non abbiamo mai messo Arnautovic sul mercato. Poi, al di là di tante cose che si sentono, si raccontano, cioè noi siamo anche contenti della stagione e del contributo che Arnautovic ha dato alla squadra. È stato importante in tante cose. A volte ci si limita a vedere soltanto il numero dei gol che fa l'attaccante o il minutaggio che ha avuto durante la stagione. Io di Arnautovic, oltre alle prestazioni, come tutti, sono state alcune buone, alcune meno. Ho apprezzato tantissimo anche quello del contributo che ha dato alla squadra nello spogliatoio, durante la settimana degli allenamenti e quanto è stato di aiuto magari a quelli più giovani, in primis penso a Turano. In primis penso a Turano, quindi un po' una sorta di chioccia. Becca, è sincero che è ausilio secondo te? Oppure sono cose che devi dire perché è giocatore tuo? Hanno la situazione sotto controllo, nel senso che è giusto parlare così, ma le idee le hanno chiare. Cioè se lo staff lì che si occupa di mercato hanno le idee molto chiare. A livello ufficiale è giusto e merita anche queste considerazioni. Massimo? No, sono d'accordo con Evaristo perché deve parlare per forza così, anche se insomma un dirigente di quelli che riesce a beccarti Lautaro Martinez, nonostante sia stato offerto, perché conosco il procuratore che l'ha offerto, ha più squadre e solo l'Inter l'ha preso grazie ad ausilio, vuol dire che sei bravo e vuol dire che hai occhio e vuol dire che sei lungimirante. Quindi io credo che sicuramente deve parlare così, ma è lungimirante e ausilio nel vedere la prospettiva eventualmente che può avere ancora Arnautovic indossando la maglia nell'azzurro. E su Carboni che mi dite? Perché Carboni, l'Inter chiede 30 milioni, mi ricordo Massimo ci eravamo sentiti a gennaio, c'era anche una squadra inglese che lo voleva, però fino adesso non è che abbia giocato molto, in Italia nel Monza alla fine faceva panchina, il nazionale è stato convocato, ma di fatto è un po' una comparsa, eppure ha già questa valutazione qui, altissima. Si vede che l'hanno giudicato un giocatore in prospettiva, molto importante, perché se no non fai queste valutazioni. E tornando a Arnautovic, io sono d'accordo con ausilio, Arnautovic magari non farà luccicare gli occhi ai tifosi, però è un giocatore sempre presente dove deve essere presente e se certe volte sbaglia dei gol è perché è là. Ma io l'ho visto anche nell'Austria, il suo allenatore era contentissimo e ha detto che è un giocatore importante per l'Austria. Quindi se tante voci dicono le stesse cose, un fondo di verità ci sarà. Eh sì, insomma, giocatore che evidentemente si sono intraviste le stigmate, no? Oppure può essere un giocatore magari da monetizzare subito, Marco? Ma allora io ti dico questo, Arnautovic, quando si cominci a parlare... Io parlo di Carboni, ovviamente. Ah, di Carboni, secondo me la valutazione di Carboni è molto alta, ok? Per quanto sia un giocatore di prospettiva, oggi si parla di milioni come se fossero il Caramelle, 30 milioni per un giocatore che deve ancora dimostrare, secondo me è una valutazione molto, molto elevata. Chi li spende ha del coraggio, oggettivamente, cioè veramente. Perché di fatto... Eh però gli erano offerti 25 a gennaio, Marco. Sì, 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 sì. Dall'Inghilterra è arrivata un'offerta portata da un mio amico all'Inter, e l'Inter erano a Riad per la Supercoppa italiana. E questo mio amico mi ha detto, io ho portato un'offerta sia per Sule e mi hanno detto di no, sia per Carboni e mi hanno detto di no. Una era di 25, l'altra più o meno, si aggirava intorno a quella cifra, due squadre inglesi. E quindi vuol dire che se c'è una squadra inglese che ti offre 25, sei autorizzato a chiederne 30. Sì, 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 questo sì. Sì, sì, quello di mercato lo danno le offerte alla fine. Le danno le offerte, sì, è questo. Cioè io mi domando però coloro i quali spendono in Inghilterra, delle volte che valutazione danno ai giocatori, vediamo negli ultimi anni, chi aveva dei capitali da investire, spesso li ha investiti anche in maniera sbagliata, ha gonfiato il mercato, cioè solo la Premier si poteva permettere di determinati parametri. Diciamo che più soldi hai e più puoi offrire ma puoi anche sbagliare. E poi anche sbagliare, non è una garanzia. E' la dimostrazione di questo, no? Per quanto riguarda Arnautovic, spesso si dice che quando cominciano a dire che sei un uomo spogliatoio probabilmente sei un giocatore finito. Questo è il detto interno. Molti cominciano a dire bravo nello spogliatoio, bravo a tenere i rapporti, fa crescere, fa la chioccia, probabilmente perché in campo hai poco da dimostrare. Generoso, sì, è un altro oggettivo che si... La più grande sorpresa quando dicevano Becker, sei stato generoso o no. Però ecco, adesso non voglio essere troppo drastico nei confronti di Arnautovic, sicuramente per quello che ha dato all'Inter lo spogliatoio meritava quelle parole dal punto di vista diplomatico e pubblico. Poi, che fine farà? Non lo so. Questo è un mondo dove non ti regala niente nessuno. Per cui, se hanno detto una cosa del genere, magari non sarà al 100% vero, ma all'80% sicuro. Ma sicuramente è vero che ha questo tipo di qualità e... Ma anche perché un dirigente se non ha ricevuto offerte ad oggi, cosa deve dire dal proprio giocatore? Il proprio giocatore c'è chi ti tratta. Cioè, può parlare solo che bene. Adesso, è giusto che sia così, perché comunque la comunicazione è una cosa fondamentale. Perché se io ho avuto delle offerte per Arnautovic, mi hanno offerto 25 milioni, parlo con il ragazzo e dico, io se vuoi andare ti do come società, non so, mi metto d'accordo. Ma in questo momento, se l'Inter non ha avuto richieste, perché Ausilio o Marotta della situazione devono parlare in modo negativo? Però lui ha per... Cioè, so per certo che è stato un uomo sicuramente nel gruppo, si è inserito bene. E questa l'aveva sottolineato, perché anche l'ultimo giocatore che è arrivato all'Inter, sembra che giochi nell'Inter da 10 anni, quindi vuol dire che c'è lo zoccolo duro. Che il gruppo ti trascina, certo. No, il gruppo c'è, però la domanda... Ma dopo, analizzando lui, secondo me, ha perso parecchi mesi all'inizio, perché quell'ansia di fare gol l'ha portato a non essere. Però la domanda nostra che vi faccio è, ma se arrivasse un'offerta, l'Inter con Arnautovic, cosa fa? Se ha un sostituto lo vende. È chiaro. Sarebbe il quinto. Ma è lui anche stesso che ha detto che non vuole andarsene, c'è anche quel problema lì. Sì, ma dopo... Lui ha detto che non vuole andare via. Sì, però nella scala, secondo me, poi nel calcio di certo non c'è niente. Sì, sarebbe il quinto attaccante, magari la società dice, se arriva qualche richiesta, prende un po' di soldi, magari il quinto... Arnautovic? Perché il quinto? E quanti sono lì davanti? Lautaro, Turam, Taremi... E beh, forse tu conti Gudmundson, che è l'obiettivo, no? Prendere al posto suo. Ma non ha preso. In matematica non ero forte. Ma non ha preso. E per me becca qui essere lasciato andare una... Su quattro l'ha messo il quinto. Gli hai dato una mano, Teo. Cosa, Massimo? No, stavo dicendo che lo stima talmente che su quattro l'ha messo il quinto. L'ha messo il quinto, sì, esatto. Sì, ma dove stava guardando lo scatto di Ronaldo, secondo me? No, ma lo scatto di Ronaldo. Era dal 72 che non vedevo uno che bruciava Ronaldo sullo scatto. Chiama Borrelli, che scatto hanno Borrelli? Quando è l'ultima volta che Ronaldo è stato saltato? Su me il Michele sa anche questa. Vediamo di nuovo la formazione dell'Inter. Vediamo se è il quinto. Scusa, ci fai vedere se sono ciclo? No, qui non l'abbiamo proprio messo. Abbiamo messo Gudmundson, Soltan. Poi se dovesse ovviamente restare. Diciamo che... Cioè, l'avete proprio fatto fuori qua. L'abbiamo fatto fuori. No, ma lui era uno da Inter, giocatore dell'Inter. Sì, sì, però aspetta, la regola della formazione di mercato... Però fa spogliatoio, quindi è nello spogliatoio. E' nello spogliatoio. E' nello spogliatoio, esatto. Perché fa spogliatoio se è lo spogliatoio. A proposito di attaccanti, qui passiamo al Milan, iniziamo a introdurre l'argomento Milan. Al Milan manca un attaccante, ma non il quinto, Marco. Manca il primo. Manca proprio il primo, quello che deve sostituire Giroud. E il nome nuovo, l'ultimo che è uscito, è quello di Alvaro Morata. Non più Lukaku, non più Zirze. Alvaro Morata, addirittura, ricordiamo, Morata ha una clausola di 13 milioni. Quindi si può prendere con una cifra, insomma, relativamente bassa. C'è poi il discorso dell'ingaggio suo. Lui prende 6 all'Atletico Madrid. Quindi diciamo che è un ingaggio alto, ma non folle. Un ingaggio ancora alla portata. La domanda è, Morata è l'uomo giusto per il Milan? In questo momento, 32 anni a ottobre, è Morata. Ok, è senza attaccanti. È un attaccante che attacca la profondità, è bravissimo. Io avevo già proposto l'anno scorso, si era parlato sempre in questo periodo, di Morata al Milan come alternativa a Giroud. Quindi come l'ho avvallata lo scorso anno, l'ho avvallata anche quest'anno. Ha fatto bene con la Spagna, è un giocatore che sta bene, che conosce il calcio italiano, è già ambientato, perché comunque la moglie italiana ama l'Italia, quindi non ha neanche quel problema di inserimento. Io la sposo tutta la vita come prima scelta. In questo momento chi non hai, altre scelte. Di fatto sei senza attaccante. Quindi tra l'altro dovevamo intervenire. Quindi io ti dico sì, assolutamente sì. Io spero che il Milan lo prenda. Gigi, Morata al Milan? E Morata ha dimostrato di essere non un giocatore eccezionale, ma un buonissimo giocatore. Per cui se non hai delle alternative valide è giusto andare sull'usato sicuro. E siccome lui vuol tornare in Italia, perché sua moglie vuol tornare a Torino, Milano vicinissimo a Torino sarebbe anche la condizione giusta per farlo tornare. Mi ricordo Massimo qualche anno fa ormai, fu già accostato Morata al Milan quando c'era Mirabelli al Milan, no? Mi ricordo che se ne parlò tanto. Poi Mirabelli venne ospite qui in trasmissione proprio da noi e raccontò insomma quello che poi di fatto era già emerso, cioè che alla fine non si chiuse l'affare perché in quel momento costava troppo. Il Milan aveva già speso in altri reparti. Però sono tanti anni che c'è questa cosa di Morata al Milan. Sì, sì, è vero. Sono d'accordo con il mister. Il Milan se non ha altre alternative, avendo secondo me bucato la prima che era quella di Zirze, ha dovuto ripiegare e credo che questo sia un ottimo ripiego. Se poi si può parlare di ripiego per uno che fa il titolare nella Spagna, è capitano, ha una grandissima esperienza. Certo non è il puntero da 25 gol o da 22 gol, però è sicuramente un giocatore che lega, non è un solitario, è un giocatore che sa giocare con la squadra e per la squadra e poi sicuramente qualche gol lo fa. Quindi secondo me sarebbe un ottimo acquisto. È un bomber Morata, Jack, no? Non è un bomber, è un attaccante che però... No, però secondo me è un giocatore di peso lì davanti, è un giocatore che ti dà la possibilità a chi gli gira intorno di poter far gol. Perciò il Milan ha questi giocatori che comunque sugli esterni ha dei giocatori importanti tipo Pulisi, tipo Leao, poi non so chi farà giocare adesso il nuovo allenatore, però non è un bomber, è un giocatore che ti fa i suoi gol importanti, è un giocatore che interpreta il ruolo nel modo perfetto e dà la possibilità a chi gli gira intorno, secondo me, di poter far bene. È un giocatore che se il Milan dovesse prenderlo, secondo me fa un grande acquisto. Adesso tutti d'accordo, vediamo Becca, anche tu Morata-Milan lo prendi subito. È un giocatore, punto. Ma basta così, finito? Eh beh, parla a mesuro... E non puoi! Gigi, scusa, ha detto, è un giocatore, punto. Cioè, ha detto, voi avete parlato troppo, secondo me. Sì, perché Morata non è un bomber, però è uno che lega bene con i compagni, è un giocatore importante. Vedi, devi stimolarlo, poi si lascia andare. Bravo. Come ti conosci il mistero? Borrelli! Vogliamo l'intervento di Borrelli. Quindi, Marco, ti prendono Morata, tu sei a posto, dici ok. Ma allora, tu hai fatto una domanda... La coppia sarebbe Morata-Jovic a quel punto, cioè non la coppia, diciamo, titolare, esatto. Ma tu hai fatto una domanda, è un bomber? Ok, sicuramente, secondo me, Morata è più bomber di quanto sei stato Giroud in carriera, ok? Cioè, poi Giroud al Milan ha fatto un grandissimo lavoro, ha fatto bene, però non è mai arrivato oltre 12 gol, se non sbaglio, 13, ok? 13, 13, credo. Quindi bomber, bomber, Giroud non è mai stato. Quindi il Milan ha dimostrato... È un giocatore completo, non è una prima punta, ma è giocatore... Chi? Morata? No, Zia Maria. No, scusa Marco, il carriera ha fatto più gol Morata di Giroud? Sì, sì. Ah, questo non lo so. Allora, Borrelli cosa dice? In carriera non lo so. Chiediamo cosa dice Borrelli. Abbiamo l'aiuto da qui, abbiamo l'aiuto. Mi sembra difficile, perché Giroud ha fatto molti più anni di carriera. Però Giroud ha girato veramente a pochi gol. Io non sono sicuro, chiedo l'aiuto da casa, che c'è Borrelli. Adesso Michele ci scrive, aspettiamo, aspettiamo la risposta. Però ti dico, quindi se tu mi dici, è un bomber, ti dico, dal mio punto di vista, come caratteristiche e lo è di più di quanto lo sia stato Giroud. Allora, Michele mi scrive, Morata ne ha fatti 217. Adesso vediamo quanti ne ha fatti Giroud. 218. Giacomo Votà, 218. Giroud non ne ha mai fatti 217. Lo scrivo io. Ne ha fatti di più? Giroud 286. Ah, no, ne ha fatti di più Giroud. Morata fa 32 ottobre, Giroud ne ha 38. Sono sei anni più di carriera. Ma dipende se arriva a 38, Morata. Sì, anche quello è vero. Però sono sei anni più giocati, quindi di fatto ha la sua... Mi devo fermare, ragazzi, continuiamo a parlarne a rientro, nell'ultimo blocco. Ovviamente andiamo a concludere con il mercato Milan. C'è il beca che ti vuole...